eccoci siamo con luca berto altro protagonista di questa di questa splendida vittoria di oggi ciao luca ciao 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 a tutti una partita dura ma si sa che ormai sono tutte dure così per cui questa vittoria ha un gusto particolare si oggi veramente una bella vittoria ottenuta veramente con la forza del gruppo perché è stata tosta loro molto aggressivi e per cui veramente una gran vittoria e siamo andati in vantaggio poi loro ci hanno recuperato su questa posizione gol non si è capito e poi si è stati bravi il secondo tempo a vincerla e tenere dura la fine sì due 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 momenti particolari il gol loro che non si è mai capito se la palla è entrata veramente tu solo ce lo puoi dire e poi l'altra parata salva risultato che abbiamo visto che hai fatto in grande stile sì sul pareggio loro sinceramente non so dirtelo non si è capito se la palla secondo me no però è stato un rimpallo la palla era lì e l'abito deciso così va bene l'importante è che poi sia riusciti a fare gol ancora vincerla e niente poi secondo tempo loro hanno un po spinto c'è stato un po da fare per me è andato bene sono lì a posto diciamo è normale la metti come normale una normale esecuzione ecco no dai insomma fa piacere però sono libero a dare una mano alla squadra in questi momenti qua per cui sono contento ripeto oggi mi hanno fatto veramente una vittoria di gruppo grande spirito perché loro erano tosti hanno fatto tanti falli secondo me è un campo difficile poi sintetico lo sapevamo se loro giocano sempre così qua è difficile vincere per cui veramente tre punti fondamentali per il nostro cammino ok luca grazie del tuo tempo in buco al lupo per le prossime grazie grazie ciao a tutti ciao ciao ciao